Musica Sargentaglia, sono ShooterHatesYou e parliamo di questa donna che si chiama Diana Nihad o Diana Nihad Non fa molta differenza, la cosa importante di questa donna è che questa donna è fantastica perché ha compiuto un'azione sensazionale, molto pericolosa ma sensazionale praticamente ha coronato il suo sogno di riuscire a nuotare, quindi farsi tutto il percorso a nuoto da Cuba alla Florida, quindi per capirci da qui a qui, una piccola piccola nuotata di 170 km senza mai fermarsi e senza la gabbia antiscualo, quando infatti si fanno delle lunghe nuotate in posti dove ci sono gli squali, normalmente il nuotatore slash atleta slash persona completamente pazza chiamatelo come lo volete chiamare, normalmente nuota all'interno di una gabbia che lo protegge nel caso uno squalo lo vede e dica mmmmm, ma la donna lo ha fatto senza, è partita da Cuba ed è arrivata in Florida, alla tenera età di 64 anni l'impresa ha richiesto un po' di tempo, più di due giorni infatti, parliamo di 53 ore passate semplicemente a nuotare senza mai fermarsi ed effettivamente all'arrivo la donna pare lievemente provata e è bellissimo ascoltarla in varie interviste che le sono state fatte perché non solo è una donna di 64 anni, quindi oh mio dio, io alla sola idea muoio ma anche il fatto che è stata una cosa così difficile e così inumana che a un certo punto ci sono stati vari problemi come il fatto che ogni tanto la donna vomitasse mentre nuotava per la troppa acqua salata all'interno del suo organismo e appunto di nuovo non si è né mai fermata né mai appoggiata alle due barche che una a destra e una a sinistra l'hanno seguita per tutto il tempo per darle supporto nel caso non ce la facesse e effettivamente era abbastanza probabile che non ce la facesse non solo per la difficoltà dell'impresa ma perché non è la prima volta che provava la donna appunto ha inizialmente provato quando era molto più giovane e ha continuato per tutta la sua vita a cercare di coronare questo sogno e mentre alcuni la definiscono un'eroina, una persona assolutamente fuori dal normale e lo è, lo è una persona fuori dal normale altri la definiscono una persona completamente pazza e completamente incosciente per aver fatto qualcosa di particolarmente pericoloso senza alcuna ragione ma personalmente rimango non solo affascinato ma fortemente ispirato quando mai nella mia vita avrei mai pensato che sia possibile nuotare per due giorni e oltre senza mai fermarsi, mai eppure questa donna l'ha fatto ha detto hey, è possibile comunque gentaglia fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e schiacciate su questa notazione se voleste vedere altri video che ho fatto oggi per voi, non farò altre musichette col cuore in mano perché lo so che poi ci fate i gif e diridete di me, poi vostra madre non mi invita più a cena e... brutto, brutto non mi invita più a cena sono Grazie a tutti.